Perchè ci hai messo tanto? Il capo è tornato, eh? Vai a prendere Menendez! Ce l'ha a morte con tuo padre! E anche con Voods! E ora tocca a te! Ragazzi! Menendez, ha le ore contate! Continuo a rivedere... ...la morte di mio padre quando ero piccolo. Perchè ora? Ah, cazzo! Dovevo dartle più forti! Voods ci ha dato tutti i pezzi. Bisogna metterli insieme. Menendez era in Nicaragua. Ce l'ha detto Kravchenko. Ci veniva offerto su un piatto d'argento da faccia d'ananas. Manuel Nuriega. Bello di essere il presidente di Panama è che puoi usare l'esercito come fosse polizia privata. Quei geni della CIA hanno esitato a staccare un assegno da un milione di dollari per Noriega e tutti erano già pronti con lo champagne. E noi nella giungla. Quello in Nicaragua è stato un incidente. Noi non ammazziamo i civili. Identità confermata. È Raul Menendez. Io me l'avevo detto. Gli uomini sono pronti? Aspettano il mio segnale. Allora, dallo. Muoversi! Diamoci una mossa ragazzi. Stanniamo quel figlio di puttana. Non è questa la missione, Woods. Ci serve vivo. La mia stessa è stata un'esercito come fosse polizia. L'arrino è il suo sogno, il mio figlio di rai, è il suo sogno e il mio figlio di rai, è il suo sogno. L'arrino è il suo sogno, il mio figlio di rai, è il suo sogno di rai. Quante volte ti ho detto che non voglio essere disturbato? Ma che cazzo? Tocca mia sorella e ti giuro che sei morto. Josefina! Animale! Josefina! Dillo! Da luca delle mate! Tenne un sedante! Tengalo, chieto! Rapido! Josefina! Svegliati! Ho detto, svegliati! L'avete trasferito senza farvi vedere? Sì! In quattro ci siamo riusciti appena! Nessun testimone. Ti ho salvato la vita. Altrimenti saresti mano agli americani. Consideralo un po'. Piennes! S Sociofino! Piennes! Sì! Sì! Levasse mi te inviedi! Cos'è fila! Ai, ai por... BESTIÈ! No hai mai fatto una giornata! Sharo! Morite! Morite peccatori! Non è necessario! Vida! Deppondare la carta! Esportate il tercello! Come! 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 Chega! Shout! Fits! Cat! Puto con noi cattina! C'è una proportion! Menendez! Menendez! Sua sorella Josefina è morta nell'esplosione. Chi è stato? Non sapevo ci fosse anche lei. Ho visto Menendez e sono impazzito. Non è da te, Frank! Che cazzo ti aveva fatto in Angola? Menendez... voleva sapere cosa aveva la CIA su di lui. Aveva torturato i miei uomini... per farmi parlare. Uno a uno. Li ho visti morire e poi... ci ha buttati in quel container e l'ha chiuso. Ci sono rimasto per settimane. Ecco... perché ho perso il controllo quando l'ho rivisto. Cosa avresti fatto, tu?! Quella chi è? Non importa, non è un obiettivo. Sarà una puttana! Uomini di Noriega... Andiamo! Cazzo, era ora! Fuoco intenso! Gli uomini di Noriega attraversano il fiume! Guarda con chi ci tocca combattere. Vita ti usa! Il cartello non scherza. Ringrazierai di avermi trovato. Mitragliatrice! Inesco a fianco destro! Temici sui testi! Compattenti! Dentro! Dentro! Dietro di te! Vieni a combattirti! Negativo, negativo! Attenzione! Ci sono i cimini! Vai, i balconi! Freddo! Guarda! 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 Grazie a tutti! Guarda la finestra! Negativo, negativo! Non consigo disparar! Il tuo armato viene arrivo! Mason, va fuori la finestra! Lo muerto! Los ojos puestos! Via! Los ojos! Negativo! Contacto en abierto! Contacto! Negativo a la 12! Passé a la 12! Dis прямо a la direita! ernen, levantatеть! Via! AgKei! Si! Quo Asi! Ins Wide! Passé! I have Morgan! ratchet 1.11! Non fermatevi! I bastardi si coprono, stanno lì! Sono le finestre! Guarda dal balcone! Guarda dal bii! Guarda dall'al lanes! Guarda dal balcone! Guarda dal balcone! Nell'edificio! Rispogliamolo! Non va! Non contiene! Seguimi! No, è impossibile. Cosa? Quel cazzo di Noriega. I suoi uomini dovevano darci Melendez. Melendez! Muts! Frank! Devi darti una calmata, subito! Tu non sai cosa gli ha fatto quel bastardo in mergola. Vedi di finirla. Siamo in missione. Si dirige alla casa e lo prenderemo. Ma solo collaborando. Andiamo. L'edificio principale! Supero le scale! Occupate il quartiere! Ehi, a cazzo! Cecchini sul tetto! M'laигrazi! Tavolando! Oficionare a los 11! Busca en algo de cubierta! M'la �rive! Corredores a pie! M'la��가! M'la hija se está ruivando! M'la hija! M'la hija! M'la hija! M'la hija! M'la hija! M'la hija! Occhio! Occhio! La porta! Viene a testo! La via è tirata! Univito a me! Il gragiatrice ha l'ingresso! Obiettivos divisados! Era l'ultimo. Occhio! Woods, Mason. Laboratorio nel seminterrato. Ripolitelo. Cercate informazioni sul cartello di Menendez. Se lo prendete e lo portate da me, lo faremo parlare. Ai tuoi ordini. Allà, derecho! Occhio! Mason! Tieni d'occhio, Woods. Rivedere Menendez. L'ha scomporto. Tranquillo, Azzo. Ci penso io. Facciamo in fretta. Non voglio perdermi il piatto forte. Pronto, Mason? Regresse nel fuego! Oh! Fuera da qui! Fuera da qui! Fuera da qui! Adesso! Adesso! Oh! Oh! Puttanto! Oh! 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 Non voglio perdere! Villaniaää! 槽 ­ Tu fixate... paappe... Tranquillo! Jeho.. Eroskimi lieux! Vestas-li life! Prendiamo le prove, prima che bruci tutto! Non c'è un tiro! Ammela sala 10! Forza, Mason! Donde sta il? Non consigo disparo! Rogati! Hudson, hai trovato quel pezzo di merda? È nella casa, andiamo per intervenire. Arrivo. Negativo, Hudson. Qui la situazione è sotto controllo. Woods! Cazzo, Woods! Vai, Mason! Il bastardo non ci sfuggirà! Allenta! Allenta! Non ci sfuggirà. Prendete! No! Camion! Listo! Tres, dos, uno... Levante! Frank, tutto ok? Portatelo via! Che è successo, Azzo? Dov'è Menendez? Eccolo lì, nel sacco d'amore. D'ora in avanti... Questo non è mai successo. Invece lasci che il PDF si prenda il cadavere! E adesso rieccolo. Più incazzato di prima. Non può uccidere mio padre. A quello ha già pensato qualcun altro. Ma potevo uccidere te. Quindi com'è che tu sei ancora vivo? Basta chiacchiere. Trova quel pazzo.